Il pane e ciabatta La biga che ha rinfrescato, anzi che ha maturato per 18-20 ore e poi accanto alla biga abbiamo gli ingredienti che andremo ad aggiungere che sono il malto, si può sostituire con lo zucchero tranquillamente, il sale, la farina come diceva la ricetta originale di Cavallari in cui si aggiungeva una parte di farina fresca il giorno dell'infresco e l'acqua. Ok, l'operazione che farò adesso sarà questa, quella di introdurre la biga all'interno dell'impastatrice e quando avrò aggiunto la biga nell'impastatrice inizierò ad aggiungere tutti i vari ingredienti. Il lavoro durerà 15 minuti e in questi 15 minuti vi parlerò un po' della storia di Cavallari e del perché siamo arrivati nel 2021 a fare un pane che ha 39 anni di vita ma che in realtà è un pane conosciuto in tantissimi paesi del mondo. Ok, ci portiamo tutti gli ingredienti vicino alla macchina. Ecco, questa è la biga, vedete, che abbiamo fatto ieri pomeriggio verso l'una, più o meno l'una. Adesso la metto all'interno della macchina, dell'impastatrice. Poi vi dirò che farina utilizziamo per fare la biga, vi dirò un po' tutto quello che sono i movimenti che bisogna fare con questo tipo di pane. Ok, parto subito con il malto, aggiungo subito il malto perché è un, diciamo così, un elemento che dà energia al lievito che si sta creando all'interno. La biga è una sorta di lievito, possiamo chiamarlo, comunque darà energia per fare in modo che l'impasto è stato fermo per tante ore, cioè è rimasto fermo per tante ore e ha bisogno di un'energia. Come noi la mattina beviamo un caffè con un po' di zucchero, lui ha bisogno di un po' di zucchero anche la nostra biga. Quindi subito il malto, subito un goccio d'acqua, ecco qua, e lasciamo lavorare la macchina. Allora, stavo dicendo, mi sono forse spiegato male prima, che ho messo subito lo zucchero perché l'impasto è rimasto fermo per 18 ore. Quindi ho bisogno di un qualcosa per riattivare, diciamo così, la formazione del gas interno. Questa operazione che sto facendo in questo momento si chiama rinfresco. Il rinfresco è molto importante perché bisogna farlo con calma, guardando bene l'impasto e i vari movimenti che fa l'impasto e bisogna dare i suoi tempi. Quindi vedete che l'impastatrice in questo momento sta andando alla prima velocità, poi farà circa 8-9 minuti, cambierà e andrà alla seconda velocità, impastando molto più velocemente. E da lì cosa nascerà? Nascerà la maglia glutinica. La maglia glutinica che viene dal lavoro della farina, una farina forte in questo caso, e si forma questa maglia glutinica. Che cos'è la maglia glutinica? E' proprio, sono gli elementi che compongono la farina, il glutine soprattutto, che si stringe chiudendosi a maglia e non facendo fuoriuscire il gas che c'è all'interno, quindi l'anidride carbonica. Questo gas che appunto serve per la lievitazione, che noi poi otterremo dopo, in un secondo momento. Allora adesso proseguiamo, aggiungiamo dell'altra acqua, vedete? Ecco qua. Se vuoi avvicinarti con la macchina così, si vede poi pian pianino, diciamo così, la formazione dell'impasto, la formazione dell'impasto che deve essere fatto molto lentamente. Come nasce questa ricetta? Allora nasce innanzitutto qui ad Adria, abbiamo detto 39 anni fa, grazie ad Arnaldo Cavallari. Ma in che maniera? Lui inizialmente era un mugnaio, quindi riceve dai genitori, dal papà e dalla mamma, un mulino, il mulino adriese, raccoglieva le farine dai vari produttori di grano intorno al nostro comune, portava queste farine al mulino e c'è anche un aneddoto in questo periodo, che in quel momento lì, mentre lui guidava un furgoncino, in mezzo ai campi sterrati, imparò anche a guidare le auto da Arnaldo Cavallari, appunto perché girando nei campi sterrati con le macchine e con i pesi dietro al furgoncino, la macchina non era tanto stabile, ma lui con la sua abilità riusciva a portare la farina al mulino. Divenne quattro volte campione d'Italia di Irralli, quindi un personaggio che poi alla fine si è sviluppato anche a livello sportivo. Torniamo a noi, lui nell'80 circa vuole diventare da mugnaio a fornaio, quindi trasformare quello che lui aveva da sempre, cioè la farina, in un qualcosa, in un pane, che potesse essere un pane conosciuto e apprestato in tutto il mondo, ma non voleva un pane comune come i panni che si trovavano in quel periodo, lui voleva un pane croccante esternamente e morbido internamente. Fece tantissimi esperimenti e questi esperimenti però non erano codificati, termine che si usa adesso, cioè non si scriveva il quantitativo d'acqua che veniva usata per il rinfresco, che veniva usato durante la procedura successiva alla levitazione della biga, ma lo faceva così spontaneamente, guardando l'impasto. L'aneddoto dice che questo pane ciabatte ossinato per errore, e questo in effetti è l'errore, cioè quello di non scriversi mai i passaggi. Poi alla fine, logicamente, quando gli esperimenti erano stati fatti e l'ottenuto era questo, questo pane schiacciato come forma, appiattito e con una classica forma che lui diceva da ciabatta, all'inizialmente voleva dare il nome di questo pane, il termine savata, che in dialetto appunto vuol dire ciabatta, e appunto creò il pane, questo tipo di pane particolare. C'è anche una cosa da dire, che le farine che vengono utilizzate per questo tipo di impasto sono farine forti, farine che hanno un contenuto di glutine molto elevato, arriviamo fino al 400-450 di glutine, di W praticamente, W è una sigla internazionale che ci indica il quantitativo di glutine che c'è all'interno. Le farine che vengono usate sono una parte di Manitoba, un 70%, e un 30% di farine italiane. Quali sono le farine italiane? I grani italiani che vengono utilizzati sono il Mieti, il Bologna e il Misto Rosso. Già dei nomi potete capire da dove provengono, perché il Bologna, parliamo dell'Emilia Romagna, il Mieti, sembra quasi una città del centro Italia, Chieti, quindi è sempre quella zona lì, mentre il Misto Rosso è quel grano che si trova in tutto il resto del nostro territorio, quindi la Puglia, il Veneto e tante altre parti. Questa è la miscela, quindi il 70% di Manitoba, farina molto forte, e un 30% di farine italiane. Attualmente, però, c'è da dire una cosa, siamo riusciti ad avere delle farine forti anche nel nostro territorio, qui nella zona del Basso Polesine e nella zona del Medio Polesine ci sono delle, diciamo così, delle produzioni di farina forte con i quali stiamo facendo degli esperimenti e con i quali riusciamo a ottenere degli ottimi risultati. Come risultato parlo di ciabatta, quindi seguendo la ricetta del Dottor Arnaldo Cavallari siamo riusciti ad ottenere un pane uguale a quello che faceva il Dottor Cavallari, senza cambiare la ricetta, utilizzando sempre gli stessi ingredienti. Continuiamo ad aggiungere ancora la nostra acqua. Ecco qua, la tradizione vuole che il Dottor Cavallari, quando ha inventato questo tipo di pane, lo facesse conoscere a tutti, quindi inizialmente ha cercato di coinvolgere tutti i fornai della zona, di Adria, ma anche dei paesi limitrofi. Poi dopo partiva lui con il suo sacchetto di farina, 10 kg di farina, e andava a trovare quei fornai che chiedevano loro a lui di imparare a fare il pane ciabatta. E quindi attualmente abbiamo 52 paesi in tutto il mondo in cui viene prodotta la ciabatta. Per paesi in tutto il mondo intendo dire paesi che si trovano in Africa, paesi che si trovano in America, tutta l'Europa e tutta l'Italia. 52 in totali. All'interno poi logicamente dopo si è espansa a macchia d'olio, dove c'era un forno che faceva il pane ciabatta, pian pianino altri forni hanno voluto imparare a fare questo pane. È un pane particolare perché è un pane croccante esternamente con una crosta molto fina, poi dopo alla fine vedremo anche la cottura, e all'interno c'è un'alveolatura, un'alveolatura molto particolare perché deve essere un'alveolatura espansa e rotonda, non deve essere un pane fitto, ma comunque molto gonfio d'aria. Ed è appunto questa la particolarità di questa ricetta, croccante esternamente e morbido internamente. La passione per il pane di Arnando Cavallari deriva anche dalla sua passione per le macchine. Lui, essendo appunto diventato pilota di auto da rally, faceva delle gare internazionali, faceva delle gare su tutto il territorio nazionale. Quando finiva le gare, si fermava nelle soste che doveva fare per il periodo di sosta tra un giorno e l'altro, si trovava con gli altri piloti e lì logicamente scambiavano i re, scambiavano pareri, ma non solo sui motori e sulle macchine, anche su altre cose. La sua passione, ripeto, era quella del pane e quindi chiedeva di conoscere il pane nel posto in cui si trovava. Poteva andare a prendere il pane in Toscana, poteva andare a prendere il pane in Puglia, poteva andare a prendere il pane in Romania, conoscendo varie tipologie di pane. È da lì che si è formata questa sua, diciamo così, voglia di creare un pane completamente diverso. Vi ripeto, siamo intorno agli anni 80, 79-80, e un giorno, mentre lui si trovava in laboratorio, facendo questo esperimento, aggiunse l'acqua, come sto facendo io in questo momento. Io ho una caraffa centigradata, lui non aveva una caraffa centigradata, aveva una caraffa normale, ma senza, pian pianino formando, nel nostro rinfresco. A questo punto aggiungiamo il sale, il sale, aggiungiamo ancora un goccio d'acqua, e la facciamo andare alla seconda velocità. Ecco, se riuscite a vedere la macchina che sta lavorando, noterete che l'impasto è ancora molto grezzo, è tutto frastagliato, non ha una costituzione liscia e omogenea, come deve essere quella del pane. Nella formazione dell'impasto, è importante che la ciotola rimanga completamente pulita, non ci siano pezzi di pasta che si incollino alla ciotola, che potrebbero rovinare poi logicamente l'impasto. Ecco, vedete, io quando insegno ai miei ragazzi, dico che l'impasto che state guardando, deve assomigliare a una zucca mantovana, o comunque la forma di una zucca. Vedete, tutti i vari, eccoli qua, tutti i vari, diciamo così, sezioni che ha la zucca, soprattutto quella gialla, che in questo periodo si trova anche nei mercati, vedete, e la pasta colpendo l'asse centrale, l'asse centrale d'acciaio, si straccia facendo un filo. Quando quel filo diventerà lungo, la maglia glutinica si è formata, e quindi l'impasto è pronto per essere messo in puntatura. Che cos'è la puntatura? La puntatura è un momento in cui la pasta riposa e si gonfia, quindi aumenta di volume, e c'è la formazione del gas. La puntatura dura circa 40 minuti all'incirca. Può variare in base alle temperature atmosferiche. Se c'è una giornata fredda, possiamo dare un quarto d'ora in più. Se c'è una giornata calda, dovete tirare via un po' di tempo, quindi anche 35, 40, comunque 35 minuti sono sufficienti. Ok, aggiungiamo ancora un po' d'acqua. Adesso l'acqua deve essere aggiunta piano piano, piano piano perché bisogna fare attenzione a che appunto non succeda quello che è successo a Dottor Cavallari, che è l'impasto collassi. Se io aggiungo troppa acqua, l'impasto non la regge, e quindi smonta. Diciamo anche un'altra cosa, che queste sono farine forti, sono farine programmate per fare questo tipo di lavoro, perché appunto sono state selezionate da Dottor Cavallari, quindi sono farine che riescono a mantenere, diciamo così, la posizione di lievitazione, anche durante la fase di impasto. Se ci avviciniamo adesso alla macchina, potete vedere l'impasto che comincia a formarsi. Notate che è un po' più liscio rispetto a prima, un po' più liscio, è granuloso nella parte centrale, ma esternamente comincia ad acquistare quella classica forma di liscio e omogeneo, che poi si trova spesso anche scritto nelle ricette. Aggiungiamo, stando qua, ancora un goccio d'acqua, noi arriveremo comunque ad aggiungere tutta l'acqua alla fine. La temperatura di oggi è abbastanza bassa, quindi siamo intorno ai 20 gradi esternamente, quindi vuol dire che l'impasto riuscirà comunque bene, perché non c'è freddo da bloccare la fase di impasto. Notate che come aggiungo l'acqua, l'impasto si straccia, ma è una cosa meccanica, e la macchina invece avrà il compito di ricompattare tutti i vari pezzi di pasta che si sono staccati. Eccola, e se notate il centro, si comincia a formare il filo, quel filo che ogni tanto si straccia. Quello è molto importante, quello è il campanello nostro d'allarme, o meglio ancora il segnale che noi dobbiamo vedere e capire per intuire che l'impasto è pronto. Eccolo lì, vedete che si straccia per bene. Aggiungo, se l'operatore sta più ancora, aggiungo ancora un po' d'acqua, perché non è ancora pronta. Eccolo qua, vedete l'azucca mantovana, la forma di una zucca. Queste sono frasi che mi diceva Cavallari, mi diceva sempre quando stavamo in laboratorio, nel suo laboratorio sperimentale, deve essere come una zucca, lì si è domogenea, non si deve attaccare le pareti, essere bella filosa, bella bianca, quasi un panetto di burro montato, per far capire magari i più profani, a quelli che non se ne intendono di questo tipo di impasto. Ecco, l'acqua è stata aggiunta tutta, il sale l'abbiamo messo, terminiamo adesso la fase di creazione della maglia glutinica, che è molto importante, e poi la passeremo in puntatura. Siamo arrivati alla fine, se inquadriamo un attimo, possiamo notare l'impasto completamente liscio e omogeneo, anche nella parte centrale, non si notano più pezzi di pasta, ma sono stati tutti incorporati, si è formata la maglia glutinica, perché vedete, ecco la pasta che si allunga, e poi a un certo punto si straccia, io parlo nella parte centrale dove c'è l'argano, adesso blocco tutto, e la togliamo, e le mettiamo nel cesto. Uso la stessa tecnica che usava il dottor Cavallari, cioè si bagnava le mani, in questa maniera, metteva un goccio d'acqua nell'impasto, ma pochissima, con una paletta d'acciaio, tagliava, non con un coltello, una paletta, tagliava il pezzo di pasta, e lo metteva nella ciotola, che vedete, leggermente unta d'olio. Ok, l'importante è non stracciare la pasta, cioè non tirarla, vedete, ma tagliarla, come sto facendo io in questo caso. La pasta è viva, quindi bisogna avere anche, diciamo così, una sorta di rispetto della pasta. Eccola qua, vedete? Ci siamo quasi. Eccola qua. Adesso noi la mettiamo in questa ciotola, per farla riposare, vi ho detto, 40 minuti, si chiama puntatura. La puntatura viene fatta, dei fornai, appunto, per fare in modo che l'impasto, intanto si rilassi, dallo stress, subito, con l'impastatrice. Innanzitutto è molto importante che si rilassi, ma soprattutto, che inizi a formare, il gas, cioè l'anidride carbonica. Eccolo qua. Adesso la silvia mi dà una mano. Lo mettiamo sopra qui. Questo è l'impasto, vedete? Vi faccio notare una cosa, già cominciano a nascere le bolle, quelle qua, le vedete? Ok? Adesso io giro un attimino l'impasto, in questa maniera, prendendo gli angoli e portandoli verso il centro. Eccolo qua. Lo copriamo e lo lasciamo 40 minuti a riposare vicino a una fonte di calore. Ecco qua. Vicino a una fonte di calore, leggermente aperto, in modo tale che il calore penetri e inizi quella sorta di camera, di calore, che gli permette poi di gonfiarsi sempre di più. Dopo vedremo alla fine dei 40 minuti l'impasto che verrà rovesciato sul tavolo. Ci siamo, sono passati i 40 minuti. Abbiamo visto prima l'impasto in puntatura, adesso questo è l'impasto che è rimasto i 40 minuti vicino a una fonte di calore. Vedete come si è gonfiato? Vedete le bolle d'aria che indicano una grande quantità d'aria all'interno. Eccole lì, le vedete? E quindi aria vuol dire gas. Questa è la maglia glutinica. Eccola qua. Vedete quanto è fine la pasta? Ok? Quanto è fine ma quanto è gonfia. E adesso andiamo a rovesciarla sul tavolo. Prima di rovesciarla sul tavolo infariniamo il tavolo. Così. usiamo tutti i vari passaggi che ci ha insegnato il dottor Arnaldo Cavallari che sono poi i passaggi principali per fare il pane. Lo fanno tutti i fornai. Non è niente di nuovo. Però per noi che siamo così i suoi allievi seguiamo un po' tutte le tecniche che ci ha insegnato Cavallari. Facciamo rovesciare l'impasto sul tavolo senza stracciarlo con delicatezza e notate che diventa come una specie di cuscino. lo infarino ecco qua lo metto in posizione per poterlo tagliare eccolo qua e adesso con l'aiuto delle mie ragazze anche se sono delle professioniste anche loro che mi stanno dando una mano andiamo a fare le pestature io lo passo a loro e loro lo andranno a mettere sul telo da livitazione e andranno a mettere Ecco qua, vedete? Noi facciamo pezzi da circa, parliamo sempre circa perché non siamo delle bilancie umane, da 300 grammi. Queste sono le ciabatte, diciamo così, nella fase di lievitazione. Poi da queste ciabatte possiamo ottenere tutto quello che noi vogliamo, e cioè gli zoccoletti, possiamo ottenere i grissini, i grissoni. Praticamente possiamo usarlo per tutto quello che a noi interessa a livello panificazione. E per panificazione intendo dire anche la pizza, perché il dottor Carlo Cavallari ci ha insegnato che con questo impasto si ottiene un'ottima pizza che si può creare con lo stesso impasto, vedete, però logicamente non con pezzi piccoli così, ma con un pezzo molto più grande steso su una placca, e poi lasciate lievitare con dita a piacere, come la classica pizza. Diventa una pizza trancio, non la pizza, diciamo così, da pizzeria, da forno da pizzeria, però è un'ottima pizza, un'ottima pizza da degustare. Via. Via. Adesso con alcuni pezzi di pasta ciabatta, ancora cruda, facciamo dei grissoni. Cosa vuol dire grissoni? Tagliamo l'impasto, vedete, con la paletta, dando la forma di un grissino un po' più grande. Facciamo come fanno a Torino, nel Piemonte, dove loro hanno tradizione dei grissoni. Lo stiriamo un attimo, in questa maniera, dandogli la forma, vedete, un po' più allungata. E diventa un grissone che noi andiamo ad appoggiare su una placca, a lievitare, avrà un tempo di cottura leggermente inferiore alla ciabatta. Vai Silvia. E otterremo che cosa? Otterremo un impasto, eccolo qua, un pochettino più piccolino, ma non ha importanza. Otterremo un impasto che noi andremo a tagliare a rondelline e poi può diventare, ad esempio, un pane per aperitivi, può diventare un pane anche per i ristoranti, non so, di grissini un po' più grossi. Li possiamo fare anche più fini, se vogliamo, non è quello il problema. L'importante è, vedete, tagliarlo in questa forma, stirarli un attimo e dopo metterlo a lievitare come l'altro ciabatta. Ha un tempo di lievitazione, volendo, anche minore rispetto alla ciabatta. Adesso la ciabatta deve restare qui un'ora, mentre questo potrebbe rimanere qui anche solamente mezz'ora, 35 minuti. Sono passate circa 60 minuti, quindi l'ora che avevo detto di lievitazione sui teli di lino, questi qua che vedete. Adesso il pane è ora di infornarlo. Per infornarlo anche qua c'è una tecnica che ci ha insegnato Cavallari, che è una tecnica semplicissima, che è quello, innanzitutto, di girare il pane all'opposto. Cioè, se questa è la posizione della lievitazione, questa sarà la posizione della cottura. Si prende il pane e lo mettiamo sopra al telo, in questa maniera. Questa è la ciabatta che non è in cottura, ma in questo caso oggi faremo dei zoccoletti, quindi taglieremo la ciabatta in zoccoletti, in questa maniera. Faremo dei pezzettini, uno, due, si possono fare così piccoli, ma si possono fare anche un po' più grandi. Ok? Va bene? Cominciamo. Cominciamo. Prendi, gira e vai. Perfetto. Lo metti là. Fantastico. Tutti quanti a rotazione adesso, via. Tutti quanti a rotazione adesso, via. Sicuramente è indisputabile e noi lo prendiamo? Ma, vado bene qua, sai. Te lo passo a te e te lo metti. Ok, lo metterò qua, mi raccomando, girateli. Hai già girato? Si. Hai già girato? Si. Ok? Hai girato? Si. Ok? Vai Silvia qua. Allora, adesso lo inforniamo. Viene infornato a 230 gradi, per circa 15-20 minuti la forma dello zoccoletto. Per 30 minuti, invece, è la forma della ciabatta. Ok? Con la Silvia prendiamo il telo di infornamento. Perfetto. Via. Darò un colpo di vapore che servirà per varie motivazioni. Questo è il colpo di vapore, sentite? Ha la motivazione principale, quella di creare la crosticina croccante nella parte superiore. Nell'altra, diciamo così, particolarità è quello di rendere il pane internamente più morbido, perché il vapore poi penetrerà anche. Ok? Adesso proseguiamo. Il pane è cotto, adesso in questo momento. Lo zoccoletto vado a toglierlo via dal forno. Apro il portellino. Con questa paletta qua lo prendo su. E questo è lo zoccoletto che abbiamo fatto. Che andiamo a mettere dentro il cesto. Mi tenete il cesto, ragazzi? Eccolo qua. Adesso tira sul cesto. E questi sono gli zoccoletti fatti con la ricetta di ciabatta, della ciabatta di Arnando Cavallari. Avete visto che se metto insieme i tre pezzi diventa la classica ciabatta di Arnando Cavallari. Benissimo, spero di essere stato chiaro, che abbiate capito tutto quello che è stato fatto in questa oretta che abbiamo passato assieme. E arrivederci dalla Scuola Berghiera, Giuseppe Cipriani.